Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Quest'oggi voglio parlarvi di Trust Wallet. Trust Wallet dal 2018 è diventato il portafoglio ufficiale di Binance che è l'exchange più grande del mondo. Binance ha acquistato questo portafoglio e tutte le sue funzioni. Questo va a significare che è un portafoglio veramente che merita la nostra attenzione perché Binance non lascia le cose al caso. La Trust Wallet fa parte dei portafogli che vengono definiti portafogli mobile. Si tratta infatti di un'applicazione scaricabile dai principali store come il Play Store di Android o l'Apple Store. Funziona con tutti i token ERC20, ERC223 e ERC721 che supportano le principali blockchain dell'ecosistema Ethereum, Ethereum Classi e Callisto. Una delle cose più interessanti di questo wallet è che è un progetto open source per cui il codice è controllato da una comunità di sviluppatori che aggiornano costantemente il wallet. Per quanto riguarda anche la sicurezza, il Trust Wallet ha delle standard molto elevate. Infatti le chiavi private, quelle che consentono l'accesso e il controllo delle nostre criptovalute, non vengono memorizzate in nessun server, ma vengono salvate localmente sul dispositivo che noi utilizziamo. Questo significa che noi abbiamo il totale controllo dei nostri fondi. Un'altra cosa che va a aumentare la sicurezza, Trust Wallet non richiede alcun dato personale, quindi anche dal lato privacy è veramente efficace. Quando si scarica Trust Wallet, adesso poi vi farò vedere proprio registrandolo dal mio telefono, vi viene chiesto di eseguire un backup salvando una frase di 12 parole. Questa frase di 12 parole è molto importante, vi consiglio di salvarla in posti che conoscete solo voi, che vi servirà nel caso voi smariate il telefono, il dispositivo su cui avete Trust Wallet, potete recuperare il vostro account, le vostre criptovalute. Questo fantastico wallet supporta anche le DAP, ovvero le applicazioni decentralizzate. Una volta entrati nel wallet, infatti, è possibile selezionare la sezione DAP, dove sono divise diverse categorie, tra cui giochi, social e DAP utility. Si possono collegare anche agli smart contract sulla blockchain di Ethereum. Una funzione molto utile che abbiamo all'interno di questo portafoglio è la possibilità dello swap delle criptovalute, infatti è collegato agli exchange decentralizzati, dove noi possiamo fare lo swap, quindi scambiare i nostri token RC20 in una qualsiasi criptovaluta supportata dai DEX decentralizzati, dall'exchange decentralizzati. Andando sul sito internet di riferimento, trustwallet.com, possiamo vedere un po' una panoramica, più di 160.000 risorse supportate, tutto ciò di cui bisogna in un unico posto, quindi si possono scambiare, come ho detto, criptovalute, conservare i nostri fondi acquistando delle stablecoin per evitare le volatilità di mercato. Si possono guadagnare degli interessi passivi mettendo i staking delle criptovalute, come possiamo vedere, qua sono gli interessi che possono dare mettendo i staking, appunto depositando queste tipologie di criptovalute per un tot di tempo. Non richiede alcuna fee, quindi alla fine del processo di staking tutte le nostre criptovalute, più gli interessi maturati, ci vengono dati indietro completamente. Possiamo vedere qui, trustwallet è disponibile appunto App Store, Google Play o tramite APK. Qui sono un po' un riassunto di tutte le criptovalute che supporta. Spiega un attimo come scaricare trustwallet, come impostarlo, ma adesso ve lo farò vedere direttamente. Stoppo il video e avvio la registrazione da cellulare e vi faccio vedere come funziona. Eccomi qua ragazzi, sto scaricando trustwallet per il mio sistema operativo Android, quindi lo metto a scaricare. Andiamo un attimo alla velocità di connessione, vi ricordo che tutti i miei video sono in diretta, non sono programmati, quindi vi faccio vedere passo passo quello che sto facendo, sia in positivo che in negativo, perché magari posso anch'io incontrare delle difficoltà dalla diretta, ma è bello essere naturali, più possibile secondo me. Allora, private sicuro, le chiavi private non abbandonano mai il tuo dispositivo. Andiamo su o crea un nuovo wallet se ci siamo di nuovi utenti, oppure se abbiamo già un wallet, basta cliccare on già un wallet e inserire le 12 parole di sicurezza. Qui ci sono tutti i termini di servizio, condizioni d'uso, possiamo tranquillamente anche bypassarle, perché sono i classici termini che controlliamo normalmente quando sono in caso di privacy e di utilizzo dei wallet. Mettiamo il flag, clicchiamo continua, esegui il backup del tuo portafoglio adesso. Allora, qua io vi consiglio di scriverle su un foglio, numerate come sono, perché poi ve lo chiederà. Quindi adesso, in questo momento, lo sto copiando. Alla quinta. Potete anche eventualmente trasformarle in QR o fare un copio e incolle eventualmente su un foglio di Word. Io uso il vecchio sistema, anzi uso sempre due sistemi. scrivo uno su un foglio e l'altro lo copio su un bloc note e se lo condivido sul mio drive. Ok, finito di copiare, andiamo avanti. E quindi adesso ci dirà di mettere in ordine le parole che abbiamo copiato, le nostre parole segrete. e quindi mettiamo allora, sorry, questo, caos, alert, attack, questo, e questo. Andiamo su fatto e creerà il nostro wallet, quindi il tuo portafoglio è stato creato correttamente. Notifiche push, mettiamo abilità. Allora, come potete vedere il portafoglio veramente ha un'interfaccia semplicissima. Anche se online potete leggere che non supporta Bitcoin, ma invece negli ultimi aggiornamenti oltre a supportare i token R-C20 supporta anche Bitcoin e ovviamente Binance Chain. Allora, una volta che siete su questa interfaccia potete tranquillamente inviare o ricevere criptovalute. Quindi possiamo andare a inviare, al momento non ho criptovalute, va bene, possiamo comprarle. queste sono tutte le nostre criptovalute disponibili all'acquisto se noi clicchiamo ad esempio su Bitcoin selezioniamo l'importo che vogliamo comprare di Bitcoin e qua sotto come vedete MoonPay oppure a seconda degli importi può cambiare il servizio di pagamento adesso è uscito Mercurio sono tutti servizi di terze parti che cliccando sul tasto successivo faranno aprire un'interfaccia dove voi dovete inserire ovviamente i vostri dati la carta di credito la carta di debito e potrete acquistare direttamente Bitcoin attraverso questo portafoglio. è una funzione molto utile se avete bisogno di fare degli acquisti in velocità e non avete voglia magari di registrarvi a diversi exchange anche se io consiglio sempre per acquistare Bitcoin Ethereum di usare Coinbase che è veramente semplice e le fee non sono alla fine poi così così alte e che dirvi allora andando su Dapp noi qua possiamo inserire l'url di un sito di un adapp oppure di uno smart contract per poter accedere appunto a questi smart contract qua abbiamo già un elenco disponibile di applicazioni decentralizzate sul quale noi possiamo intervenire abbiamo poi la funzione DEX quindi qua noi possiamo fare lo swap quindi il cambio di criptovaluta ad esempio volessimo cambiare Ethereum per Tether qua ci va a indicare 25% 50% 75% 100% e sarebbe il quantitativo del nostro portafoglio che vogliamo cambiare facendolo cliccando poi su scambio Ethereum verrà trasformato in USDT qua abbiamo anche le possiamo vedere i dati di borsa acquista di compre e vendita all'interno direttamente del wallet andando su assets al momento non è ancora disponibile ma si dovrebbe vedere poi tutto il mercato andando sulle impostazioni noi possiamo modificare la sicurezza le preferenze connetterlo eventualmente con degli hardware wallet vi farò poi un video dedicato per questa funzionalità metterlo in modalità notte o accedere alle community che ci sono nei vari social per ricevere criptovalute ovviamente se vogliamo ricevere bitcoin selezioniamo bitcoin clicchiamo ricevere e ci viene dato il nostro codice qr possiamo impostare l'importo oppure condividerlo a un nostro amico o chi deve inviarci il pagamento la stessa cosa per inviare criptovalute al momento non me lo fa inviare perché ho zero però se noi clicchiamo invia btc inseriremo l'indirizzo del distanatario la quantità di bitcoin da mandare cliccheremo continua e si avvierà la transazione cliccando in alto a destra abbiamo un po' di notizie di informazione delle criptovalute che abbiamo scelto in questo caso sempre bitcoin e possiamo anche monitorare l'andamento di questa valuta credo di avervi detto in modo rassuntivo tutto è un wallet veramente semplice da utilizzare vi lascerò il link in descrizione per scaricarlo dalle fonti sicure mi raccomando non scaricate wallet da fonti che non vi sembrano autorizzate perché non si sa mai di beccare dei wallet truffa vi lascerò il link in descrizione eventualmente di coinbase e di altri servizi per riuscire a acquistare vendere criptovalute in totale semplicità va bene ragazzi per questo video è tutto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e vi ringrazio eh cacchio stavo registrando un video adesso vediamo se mi ha registrato i suoni parca metteria voglio tocchiamami al telefono eh eh arrivo eh vabbè allora sto qua ciao cazzo 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 cazzo